Allora prova, cartuccina, calibro 9, a palla, col sistema delle cartuccine ho messo dei pallini della calibro 5,5. Vediamo un pochettino che effetto fa sul legno, una decina di metri. Ok, puoi inserire. Mira la tavola al centro, aspetta quando vuoi. Quella di sinistra? Sì, al centro. Forza. Tutto la devi tirare. Riprova. Seconda. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino.